Ciao a tutti, mi chiamo Nicolas, mi presento al Contamination Lab con un progetto che sto sviluppando legato al mondo dell'educazione. Il mio percorso ho avuto la possibilità di studiare e di lavorare prima in Inghilterra e poi in Canada, conoscendo così delle realtà totalmente diverse, con pro e contro. Fra le mie varie passioni ci sono l'IT, lo sviluppo web in generale e la programmazione, anche se di recente mi sono appassionato sempre di più al mondo delle criptovalute, ma soprattutto alla tecnologia che vi è dietro, la tecnologia blockchain, in quanto credo moltissimo al suo potenziale e al valore aggiunto che questa può portare alla nostra realtà. A riguardo ho aperto e seguo un portale e una community CryptoEra.org. Al momento sto anche lavorando a un altro progetto con altri due ragazzi, relativo allo sviluppo di una piattaforma e-commerce leggermente diversa da quelle comuni. Detto ciò, posso affermare che credo in un futuro che debba essere digitale, decentralizzato e quanto più possibile open source, aperto a tutti. Ed è proprio in questo modo che il mio progetto vuole andare ad integrarsi nel sistema educativo, permettendoli di raggiungere la crescente evoluzione digitale. Ci stiamo lavorando, lo stiamo sviluppando, anche grazie al amico Edo che mi filma. Sì, mi candido a C-Lab perché sono sicuro che in questo modo potrò acquisire nuovi strumenti e una nuova consapevolezza di sviluppo e management di progetti innovativi. Vi lascio una breve presentazione, grazie e ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.